Oggi è l'ultimo giorno per la presentazione delle liste dei candidati alla tornata elettorale del 14 e del 15 maggio interessati alle amministrative 14 comuni. Commenti critici verso l'attuale amministrazione da parte dell'ex presidente Michele Iorio a seguito della sentenza del TAR su no ai tagli del budget e privati accreditati della sanità. Per bloccare frane e smottamenti in arrivo grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 13 milioni di euro per i comuni molisani a maggior rischio idrogeologico. Il Museo Nazionale del Paleolitico di Iserni ha riaperto le porte al pubblico dopo una serie di interventi di diversa natura che rinnovano l'immagine per i turisti. Un caro saluto a tutti e ben ritrovati con questa edizione del telegiornale di TLT. In apertura parliamo della politica poiché oggi è l'ultimo giorno in Molise per la presentazione delle liste dei candidati alla tornata elettorale del prossimo 14 e 15 maggio. Alle amministrative sono interessati 14 comuni, 9 centri in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia. I paesi interessati al voto sono Campuchiaro, Guionesi, Larino, Macchia, Valfortore, Montorio, Oratino, Ripa, Bottoni, Salcito e Vinchiaturo. In Alto Molise, Belmonte, Castelpizzuto, Montaquila e Sessano del Venafro. Il comune più grande è proprio Venafro con i suoi 11 mila residenti. Il paese più piccolo è invece Castelpizzuto con poco oltre i 100 residenti. Il Consiglio di Stato dice no ai tagli del budget alla sanità privata accreditata della Regione. Sulla questione si sono espressi i sindacati e l'ex presidente di Regione Michele Iorio criticando aspramente l'operato dell'attuale amministrazione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Sentenza del Consiglio di Stato che definisce definitivamente no i tagli al budget per la sanità privata. Con l'ultima sentenza sulla questione Neuromed e Gemelli si ripristinano così le regole iniziali. Critico è stato il giudizio della Will sulla questione politica attuale in merito ai budget da destinare ai servizi sanitari accreditati. Sulla vicenda però non poteva mancare anche il commento dell'ex presidente di Regione Michele Iorio sulla gestione che definisce la vicenda come il fallimento della politica sanitaria. Le ultime sentenze del Consiglio di Stato ribadisce e stabiliscono un principio che risiede nel buon senso della pubblica amministrazione. Nelle sentenze riguardanti due istituti privati convenzionati il massimo organo della giustizia amministrativa dichiara una volta per tutte tuona Michele Iorio che le prestazioni extra regionali non possono che essere sottoposte a budget e che le prestazioni regionali di alta complessità da essere erogate in via esclusiva come radioterapia, cardiochirurgia e neurochirurgia non è possibile porre alcun tetto di spesa. Spero che oggi, conclude Iorio, si metta così fine a una discussione senza fondamenta. La situazione dei trasporti in Molise è progressivamente peggiorata. A Campobasso è da tre anni l'unico capoluogo di Regione non raggiungibile in treno. I lavori di elettrificazione e ammodernamento della linea ferroviaria a binario unico dovevano concludersi lo scorso anno e invece i ritardi sono evidenti. Questo è il commento odierno del movimento politico Potere al Popolo. Da pochi giorni poi l'ATM ha dimezzato i collegamenti giornalieri tra Termoli e Roma sopprimendo due linee di autobus su quattro. Il Molise è condannato alla marginalità da una classe politica autoreferenziale. Conclude così Potere al Popolo, incapace di organizzare i servizi necessari per la vita delle persone. A Campobasso, numerose abitazioni periferiche resteranno senza la corrente elettrica nella giornata di lunedì dopodomani a partire dalle 9 fino alle 16. Questo per i lavori sugli impianti che resteranno privi di energia elettrica. Sono interessate in particolar modo le contrade di San Giovanni in Golfo, Colle dell'Orso, San Giovanni dei Gelsi e via San Giovanni. Parliamo invece adesso del rischio idrogeologico. È stata firmata la convenzione tra regioni e comuni pronti 13 milioni di euro per la sistemazione delle zone a rischio smuottamento e frane. Rischio idrogeologico bloccare le frane e intervenire nei comuni a maggior rischio. È stata firmata la convenzione che disciplina i rapporti tra regione e comuni molisani destinatari dei finanziamenti previsti dalla misura per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico rientrante nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ricordiamo si concluderanno entro il 2026. Presenti diversi sindaci per la regione, il Presidente Donato Toma, l'Assessore Quintino Parlante e il Direttore del Dipartimento Manuel Brasiello durante la firma. L'importo complessivo del finanziamento ammonta ad oltre 13 milioni di euro. Grazie a tali aiuti i comuni potranno intraprendere le attività propedeutiche e lavori relativi ai finanziamenti richiesti. Le attività indicate dettagliatamente nei progetti dovranno essere espletate nei termini previsti per l'attuazione del PNRR. Tra i comuni destinatari è anche Castelpizzuto, costretto negli ultimi due anni a fare i conti con un vasto movimento franoso. Soggetto attuatore è la provincia di Sernia. Le nuove risorse in dotazione consentiranno di risolvere il problema della frana e ripristinare così la viabilità da e per Castelpizzuto al momento bloccato. Poi ci sono gli altri comuni che ne beneficeranno. Vero Agnone, Casal Ciprano, Castel del Giudice, Castel Mauro, Castel Petroso, Cerce Maggiore, Civitanova del Sagno, Colle d'Anchise, Colle Torto, Gambatesa, Guardia Alfiera, Larino, Limosano, Lucito, Macchia Godena e ancora Mirabello Sannitico, Molise, Monacigioni, Palata, Petacciato, Pietracatella, Riccia, Rionero Sannitico, Salcito, San Felice del Molise, San Giovanni Ingaldo, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo, Limosano, Sant'Elena Sannita, Toro, Trivento e per concludere anche Tufara. In merito alla truffa sui bonus edilizi, il cui procedimento portò nel mese di marzo da parte del Tribunale di Sernia la sottoposizione di quattro persone agli arresti domiciliari, il Tribunale per il riesame di Campobasso ha deciso di sostituire tali misure con l'interdizione, la sospensione e il divieto di svolgimento dell'attività professionale per la durata di tre mesi. Nel report settimanale la CGA di Mestre torna a sottolineare la spesa enorme per il mantenimento della struttura della pubblica amministrazione, una situazione determinata soprattutto dalla sanità e dal caro bollette, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Secondo i vertici della CGA di Mestre per anni abbiamo sentito parlare anche in modo ossessivo di spending review in pratica del contenimento della spesa necessaria per il funzionamento della nostra pubblica amministrazione ma sottolinea che i risultati conseguiti sono stati assai deludenti. Scrivono infatti in un documento che se dal 1995 i consumi intermedi sono risultati in costante crescita negli ultimi dieci anni hanno subito una vera e propria impennata, un 27% che in valore assoluto significa più 24,3 miliardi di euro. Tutto mentre l'inflazione, sempre in questo stesso periodo, è salita soltanto del 14%. Questo vuol dire che non riusciamo a spendere completamente i fondi di coesione europea o quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma per mantenere in movimento la macchina dell'amministrazione pubblica sborsiamo sempre di più. Il 2022, nonostante i tagli settoriali effettuati, è stato l'anno record. La spesa complessiva per il mantenimento della struttura statale ha raggiunto i 115,2 miliardi di euro, una soglia mai toccata prima. Non riusciamo a utilizzare i fondi di coesione europea o quelli previsti dal PNRR, ma per mantenere in moto la macchina pubblica spendiamo l'ira di Dio, più del doppio di quanto lo Stato investe per implementare i servizi, come l'istruzione, i trasporti, la sanità, o per realizzare le opere di pubblica utilità, ovvero scuole, strade e ospedali. Non abbiamo alternativa, dobbiamo tagliare i costi fissi improduttivi. Solo così avremo nuove risorse per modernizzare il Paese e aiutare chi si trova in difficoltà. Da lunedì 17 l'Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata apre le porte all'Europa attraverso il progetto finanziato dall'Unione Europea per l'istruzione e la formazione accogliendo alunni e docenti provenienti da Croazia, Austria e Serbia. La proposta Erasmus vuole consolidare il senso di appartenenza coinvolgendo Paesi Partner con l'obiettivo di riaffermare una precisa identità comune. Evento inaugurale previsto alle 17 nella palestra scolastica con esperti per la valorizzazione della minoranza croata molisana. E torna a far discutere la questione dell'opera edilizia del tunnel di Termoli. Sulla situazione si fa sentire anche il Movimento 5 Stelle definendolo come un affare nascosto ai cittadini. Ma andiamo a vedere. Torna a far parlare di sé l'opera incompiuta del tunnel di Termoli. Pochi giorni fa ne aveva discusso l'ex sindaco Angelo Sbrocca. Ora a farsi sentire anche il Movimento 5 Stelle definendola un'opera nascosta ai cittadini. La questione del tunnel è tornata infatti alla ribalta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato dell'11 aprile scorso. Sentenza che annullerebbe di fatto quella del tarro ottenuta grazie al lavoro dei comitati che si erano interessati a questo progetto la cui realizzazione ad oggi non è ancora ammissibile e lecita. Ma andiamo con ordine. Il Consiglio di Stato ha sancito la carenza di legittimazione a ricorrere da parte del Comitato No Tunnel. Tuttavia non è entrato nel merito, ovvero non si è espresso in materia di valutazione ambientale strategica e di tutte le autorizzazioni a procedere necessarie a cui deve essere sottoposto questo grande progetto. Insomma, valutazioni necessarie ma mai completate, autorizzazioni che non sono state ottenute, ha detto il Movimento 5 Stelle. Si parla nello specifico di un'ampia zona centrale, nel cuore urbano della città, che avrebbe la definitiva trasformazione di una parete naturale a un costone frontemare al di sotto di Piazza Sant'Antonio. Su questo però il Movimento si sarebbe auspicato che si sarebbe stato chiesto il parere dei cittadini e risolta anche la questione della viabilità prima di poter agire in qualsiasi modo. Non ci sarebbe stato nessun ricorso, nessuna battaglia, solo miglioria al progetto con somma gioia dell'impresa che avrebbe realizzato la stessa. In definitiva una grande occasione persa, conclude così il Movimento 5 Stelle. In occasione della celebrazione del 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, si svolgerà a Bagnoli del Trigno il dibattito dal titolo La Resistenza Molisana. L'evento è fissato per domani alle 17 con il contributo di Fabrizio Nocera, storico dell'Università degli Studi del Molise. Un momento di riflessione su una pagina importante della storia del paese. La resistenza è a contributo che i partigiani hanno dato alla lotta contro gli invasori tedeschi. E restiamo sempre sul tema dell'Università. In un recente convegno organizzato dall'Unimol si è parlato dei campi di concentramento presenti nella regione, ma anche in 15 zone del territorio della vicina Abruzzo. Andiamo a vedere. Di una cosa dobbiamo essere assolutamente certi. La storia ha più volte smentito il luogo comune della bontà del popolo italiano, che più volte ha mostrato di non essere migliore di tanti altri, conosciuti per certe vigente storiche non certo benevoli. Prendiamo il periodo dominato dal fascismo e consideriamo quelli che chiamiamo campi di concentramento. Immediatamente il pensiero va ai famigerati campi organizzati dal nazismo in Germania e nei luoghi occupati. Molti li conosciamo per nome e la ragione per la ferocia e l'estrema malvagità. Degli italiani poco e niente, come se davvero non ce ne fossero stati. Invece no, ce ne sono stati e come. Basti pensare a quelli, oggetto del convegno un convegno specifico all'Unimon presenti in Molise e soprattutto nella vicina Abruzzo. L'Abruzzo e il Molise che a quel tempo costituivano un'unica regione, le Abruzze sono state le regioni più colpite dall'internamento civile fascista. Se voi pensate, su 48 campi in tutta Italia, 15 erano in Abruzzo e 5 in Molise, quindi un numero veramente impressionante. Ma la cosa più interessante è che l'Abruzzo e il Molise sono state scelte proprio come un'isola in terraferma di confino e di internamento perché oltre alle località di campi di concentramento cosiddetti fascisti avevamo tante località di internamento libero, ovvero liberi dai campi e parliamo di 63 comuni soltanto nell'Abruzzo e 15 nel Molise, ma tanti di questi comuni erano anche stati interessati dal provvedimento di polizia del confino. Quindi l'Abruzzo effettivamente, io l'ho definito in diverse occasioni, come un'arcipelago lager fascista. E inoltre l'Abruzzo ha avuto in questi campi tutte le categorie che il regime fascista ha perseguitato, quindi abbiamo antifascisti, abbiamo ebrei stranieri italiani, abbiamo sudditi nemici inglesi, francesi, addirittura cinesi, abbiamo rome e sinti, cosiddetti dispreciativamente detti zingari. Abbiamo avuto praticamente tutte quelle categorie che il regime in qualche modo con il provvedimento di internamento cercava arbitrariamente di sottrarre la vita civile e sociale. Alla libreria Risguardi in via Veneto a Campobasso, il ricercatore dell'Università del Molise Fabrizio Nocella presenterà il suo libro Le bande partigiane lungo la linea Gustav Abruzzo e Molise nelle carte del Ricompart. Dialoga con l'autore, il giornalista, nonché il nostro collaboratore Giuseppe Pittà. Il Museo Nazionale del Paleolitico di Sernia ha riaperto al pubblico dopo una serie di interventi di diversa natura che ne rinnovano l'immagine e i contenuti e gli obiettivi di valorizzazione dell'intero complesso museale. Ma andiamo a vedere. Un nuovo allestimento delle sale espositive. Questo il fulcro centrale del rinnovamento del Museo Nazionale del Paleolitico di Sernia, focalizzando l'attenzione sulla presenza umana datata 600 mila anni fa, sulle attività dei gruppi preistorici e sulle relazioni tra uomo, ambiente e fauna. Un giorno importantissimo per Sernia, ma direi per tutto il Molise, perché riapriamo dopo alcuni mesi di chiusura dovuti a un riallestimento di cui si sentiva un gran bisogno il Museo del Paleolitico. Stiamo parlando di un'eccellenza assoluta del Molise, cioè uno dei contesti attualmente considerati come un caposaldo per le conoscenze dell'evoluzione del popolamento di questo territorio in età preistorica. Il nuovo allestimento è stato pensato per consentire a tutti e non soltanto agli addetti ai lavori di capire con immediatezza di che cosa stiamo parlando. Vedete che i resti traduzionalmente esposti, i resti paleontologici, archeologici che vedete nelle teche sono affiancati a delle ricostruzioni scenografiche che consentano immediatamente di capire due cose come erano fatti questi animali che vivono 600.000 anni fa e soprattutto quanto queste testimonianze siano basate su delle fondamenta solide da un punto di vista scientifico perché proprio realizzate in virtù delle ricerche e delle analisi condotte sui resti originali. L'ideazione e la realizzazione del progetto scientifico e museografico a cura dei funzionari della direzione regionale Musei Molise è stato possibile grazie al coordinamento tra diverse fonti di finanziamento regionali e nazionali. Molise ha delle eccellenze culturali che è nostro compito cercare di far conoscere non solo al di fuori della regione ma anche al di fuori del nostro Stato perché sono delle eccellenze che rivestono importanza a livello europeo e in alcuni casi oserei dire anche mondiale. Il racconto storico di Antonietta Caruso l'urna presentato oggi a Larino alle 18.30 nella sede di Palazzo Ducale il romanzo narra la storia delle reliquie di San Timotio presenti dal Medioevo nel Duomo di Termoli l'urna ha ottenuto consensi al premio internazionale città di Firenze nel 2021 e l'anno successivo al premio letterario nazionale città di Ascoli Piceno tre appuntamenti in Molise con lo spettacolo di Massimo Cotto De Cameroc il primo questa sera alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi domenica 16 e lunedì 17 le repliche al Teatro del Loto di Ferrazzano alle tastiere Francesco Santa Lucia ma andiamo invece adesso a vedere le previsioni del Meteo Metal Impianti Carpenterie metalliche civili e industriali scale acciaio corten serramenti in alluminio PVC e legno alluminio Metal Impianti Boiano Info 0874 77 087 3454 Gruppo Zulli dal 1975 con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica Zulli ceramiche a Città Sant'Angelo e nei pressi di Mondo Convenienza aperti tutti i giorni compresa la domenica La gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo Tempo instabile nel fine settimana su Molise e Abruzzo con precipitazioni piovose diffuse fino a sera le temperature sono previste dai 7 gradi la minima a Campobasso fino alla massima di 12 a Disernia e per l'Abruzzo dai 4 gradi dell'Aquila ai 14 di Pescara venti meridionali in Mosso l'Adriatico Centrale sulle due regioni domattina ancora a tempo incerto e nuvoloso valori climatici stazionari correnti settentrionali tlt in rete vivi con noi le emozioni dei campionati di serie di eccellenza e promozione risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti tlt in rete ogni domenica dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15 e 30 il Campobasso 1919 sceso oggi in campo in terra foggiana Pietramonte Corvino per mantenere la testa della classifica di eccellenza ma vediamo come è andata la gara in questo contributo filmato la 28esima giornata di campionato qui a Pietramonte Corvino dove si sfidano per l'appunto i padroni di casa e il lupo in una gara importantissima guillari ancora Tizzani subito il traversone per Ripa Ripa il controllo di Ciccio Ripa la conclusione di Ripa un po' debole allarga sulla sinistra per Anastasia prova la conclusione col mancino la traversa di Anastasia poi Traoré Traoré di testa che occasione Fruscella attenzione a Fruscella si imbuca in area di rigore Fruscella ancora il tocco per Traoré Traoré vince una serie di rimpalli poi con l'esterno su Fruscella la conclusione di Fruscella pallone alto sopra la traversa almeno per il commento tecnico Sabatino la rimette in area di rigore Ripa col destro la parata di Mastropieri Tizzani in area di rigore Ripa di testa Ripa di testa Fazio la rincorsa di Fazio sul secondo palo Sabatino di testa Sabatino di testa con gli stessi padroni di casa che cercano di attaccare adesso e poi c'è il gol è di spalle ha bisogno di una mano la mette dentro poi la conclusione di Tordella alta Tordella ripreso il gioco con Yo-Yo largo per Franchi la mette dentro Franchi la testa di Lombari Guantoni poi Potenza palla che resta lì non ci arriva manco Ripa Tordella 1-1 1-1 1-1 Franchi in avanti ancora Franchi accelera Filippo Franchi la mette dentro si resta lì guarda l'orologio il direttore di gara non c'è più tempo finisce qui finisce qui 2-1 per il campo basso altri 3 punti trentesimo turno domani alle ore 15 nel calcio di Serie D in casa entrambe le molisane il vasto Girardi opposto al Senigallia il Termoli al Cannarsa contro i Romani del Cinzia al Balonga Matese San Benedettese San Benedettese Portodascoli Team Nuova Florida Roma City Notaresco Trastevere Pineto Vastese Chieti e Vasto Girardi Vigor Senigallia Pineto Pineto 67 punti Vigor Senigallia 60 Trastevere 55 Alma Fano 48 Cinzia Cinzia Cinsial Balonga 47 Matese 43 Portodascoli 42 Chieti 39 Vasto Girardi 38 punti assieme al team Nuova Florida San Benedettese Avezzano 37 Roma City 33 Vastese 32 Termoli 29 Montegiorgio 28 Notaresco 27 Chiude il Tolentino a 22 punti Giron F lo Sporting Venafro cerca salvezza matematica ospitando nel pomeriggio sul parquet amico di via Pede Montana agli abruzzesi della Tombesi Ortona calcio d'inizio della gara fissato per le ore 16 L'Under 15 della Magnolia Basket Campobasso centra il titolo giovanile di categoria contro il Lanciano equilibrio solo in avvio di gara poi le ragazze del tecnico Dragonetto non lasciano scampo alle abruzzesi con un perentorio 76 a 51 il quintetto femminile della Magnolia è riuscito così a vincere sia la gara d'andata che quella casalinga nel ritorno e con questa notizia è tutto termina qui il telegiornale io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione vi lascio alla nostra programmazione arrivederci ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.